Ciao ragazze, sono Marina, sono un'insegnante, ex insegnante, in pensione da parecchi anni e quattro anni fa è mancato mio marito dopo quasi dieci anni di malattia e dopo di allora la mia vita è stata un disastro, veramente, mi sono lasciata andare e non sono più venuta a capo né della mia casa né delle mie cose ecco perché mi sono rivolta a Alba, ho visto la sua diretta una volta sola e mi ha conquistato immediatamente, ho capito che era lì la soluzione al mio caos, ai miei problemi e quindi ho iniziato a percorrere questa strada, a fare questo percorso di riordino sono molto contenta, è la scelta migliore che potevo fare vedo che le cose si stanno sistemando piano piano, con molta pazienza però mi sento decisamente meglio, vedo che tutta l'ansia, tutto quel sentimento di paralisi che avevo nei confronti delle cose della mia casa si stanno piano piano dissolvendo con l'aiuto delle signore, delle ragazze del gruppo, delle altre leonesse e soprattutto con l'aiuto di Alba, Alba mi dà una grandissima energia con la sua gioventù, con la sua capacità decisionali con il suo modo di fare così motivante che veramente sono felice di seguirla io vi saluto, sono molto contenta se aderirete a questo grande progetto bellissimo progetto, un progetto di serenità auguri a tutte, ciao